eccoci qui con i protagonisti della pollo novella che saranno in mostra dal 29 marzo al 30 aprile all'acquamarina di trieste come vedete sono un po scalpitanti da questa porta verde loro usciranno e verranno da voi a raccontarvi le loro storie vi aspettiamo ciao a 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